Ha suscitato con mozione e sorpresa il decesso dell'avvocato Tullio Giarratano, 80 anni, personaggio molto conosciuto in città. Negli anni scorsi aveva ricoperto l'incarico di presidente di Assindustria ed era stato anche direttore generale del consorzio Asi di Caltanissetta, oltre che componente del Rotary Club. Nel corso delle sue esperienze era anche intervenuto sui problemi della città per cercare di proporre soluzioni per il territorio. Essendo vicino al mondo imprenditoriale, aveva vissuto gli sconvolgimenti che portarono alle rivoluzioni ai vertici di Assindustria nissena, tanto che alla luce degli eventi aveva anche deciso di costituirsi parte civile nel processo sul cosiddetto sistema montante, durante il quale era anche salito sul pretorio come testimone. I funerali dell'avvocato Giarratano si svolgeranno venerdì 7 ottobre alle 11 in cattedrale.